Buonasera, ben ritrovati, parleremo questa sera di un disturbo, se disturbo si vuole chiamare, di una certa gravità, parleremo del sovrappeso, ma non del sovrappeso solito, quando una dieta può riportare entro limiti normali, succede invece che molte volte il peso diventa eccessivo, si arriva a delle percentuali di grasso che sono troppo elevate e di conseguenza non basta più una semplice dieta, ma si deve intervenire anche chirurgicamente. Ne parleremo con i nostri ospiti in studio, iniziale dal professor Luigi Roncoloni che torna a sette giorni di distanza, visto che i due temi sono avvicinati, è il direttore della clinica chirurgica del Maggiore, accanto a lui la professoressa Elisabetta Dallaglio che è la direttrice delle scienze dietetiche applicate, anche lei del Maggiore. Poi il professor Gianfranco De Lorenzis che è chirurgo obesità della clinica Città di Parma e accanto a lui Leone Arsenio che è uno specialista in scienze dietetiche della clinica Città di Parma, fino a poco tempo fa era tra l'altro collega della professoressa Dallaglio. Prima di entrare nel dibattito, nel merito della discussione, come sempre partiamo con la scheda, vi annuncio subito comunque, per non dimenticarlo come spesso faccio, subito dopo la scheda, che potrete intervenire anche voi da casa. I numeri di telefono sono 0521 46 42 27 per coloro che hanno intenzione di intervenire attraverso il telefono e fare le domande dirette ai nostri ospiti in studio, che poi saranno a vostra disposizione per le risposte. Chi invece volesse fare domande attraverso gli sms, il numero è 333 9200 170, anche in questo caso sarò io invece a girare le domande a loro. Credo di avere detto tutto, partiamo dunque con la scheda, come sempre, di Claudia Patrizzi. Ogni anno circa 3 milioni di persone nel mondo perdono la vita a causa dei problemi legati all'obesità, un fenomeno ormai a carattere epidemico in quanto negli ultimi 20 anni si è verificato un rapido aumento del numero degli individui in sovrappeso o obesi, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'obesità uno dei maggiori problemi di salute pubblica dei nostri tempi. Si tratta di uno dei principali problemi di salute a livello mondiale sia perché la sua incidenza è in costante e preoccupante aumento, anche nei paesi in via di sviluppo, sia perché è un importante fattore di rischio per varie malattie croniche, quali il diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori. Si stima che il 44% dei casi di diabete di tipo 2, il 23% dei casi di cardiopatia ischemica e fino al 41% di alcune tipologie di tumore siano attribuibili all'obesità o al sovrappeso. L'obesità coinvolge oltre 300 milioni di individui nel mondo, di cui 6 solo nel nostro paese, il che significa che un italiano su 10 mangia qualitativamente e quantitativamente in modo sbagliato. Il dato diventa ancora più allarmante a livello pediatrico. Nella classifica negativa della diffusione di obesità e sovrappeso tra i bambini, l'Italia si posiziona infatti al quarto posto in Europa. La dieta intesa come terapia alimentare rappresenta l'arma migliore per controllare la patologia, mentre l'educazione alimentare costituisce la forma di prevenzione più efficace. È fondamentale intervenire sugli attuali modelli alimentari, alla cui base vi sono ancora troppo spesso, eccessi di proteine, soprattutto animali, eccessi di grassi, in particolare quelli saturi, scarsa presenza di carboidrati con eccesso di zucchero a rapido assorbimento, tutti fattori che minano silenziosamente il nostro benessere. L'esercizio fisico regolare aiuta inoltre a controllare il peso corporeo senza il bisogno di ricorrere ad imponenti restrizioni caloriche. Ogni tipo di trattamento dovrebbe essere accompagnato poi dalla valutazione del profilo psicologico del paziente, per comprendere quali fattori comportamentali abbiano determinato il sovrappeso e per valutare la capacità di attuare le modifiche sia del comportamento che dell'alimentazione richieste per raggiungere migliori risultati. Quando i trattamenti medici si rivelano fallimentari interviene la chirurgia bariatrica, che comprende una serie di procedure che hanno come fine la stimolazione del senso di sazietà, la limitazione del consumo di cibo o la riduzione del suo assorbimento gastrointestinale. Gli interventi eseguiti con maggior frequenza sono il bypass gastrico, la gastrectomia, il bendaggio ed il palloncino gastrico. Nonostante sia stata dimostrata l'ereditarietà della patologia, numerosi studi hanno puntato l'attenzione sul ruolo svolto dall'ambiente familiare nella predisposizione all'obesità. Nel consumo compulsivo di cibo vi sarebbero anche cause neurologiche, che agiscono mediante meccanismi simili a quelli tipici delle più comuni dipendenze, come alcol, droga e fumo. Infine la sedentarietà costituisce un altro importante fattore comportamentale di rischio per l'aumento di peso, così come la perturbazione cronica del ciclo del sonno. Recenti studi hanno poi individuato un gene presente nella saliva la cui carenza farebbe decuplicare il rischio di diventare obesi. Professore Oncoroni, in breve, quali sono i passaggi prima di arrivare all'intervento chirurgico? Stabilito che la dieta non basta più. Allora, i passaggi lenti quali sono? Noi siamo l'ultimo anello della catena di questo percorso, diciamo il penultimo, perché poi come si è detto il paziente ritorna dall'internista che lo deve seguire nel tempo dopo l'intervento. Il passaggio quindi diventa obbligato dopo che il paziente ha provato innumerevoli volte la dieta dopo che ha fatto questo percorso e quindi viene affidato alle nostre cure. La chirurgia, i problemi della chirurgia… Prima del chirurgo c'è un passaggio, sembra che sia il vendaggio, il palloncino… Non è che è un passaggio, sono tutte delle metodiche che vengono utilizzate quasi a ponte per arrivare poi spesso a degli interventi definitivi, che sono interventi, quelli che sono più usati al giorno d'oggi, che sono interventi chirurgici che danno delle riduzioni a livello di quello che è la tasca gastrica, quindi la riduzione gastrica, ne parliamo dopo. Adesso mi interessa più sentire quante sono, sia da lei che da parte Lorenzi, quali sono le possibilità di risolvere le situazioni anche di obesità grave con vendaggi e palloncini, che è quello con cui si fa percorso con grande speranza, ecco quando si avvicina… Palloncino è un momento di ponte, di passaggio per cercare di ridurre il peso di questi pazienti quando sono enormemente sovrappeso, in modo tale da poter ridurre il rischio di un intervento chirurgico quando siamo di fronte delle grandissime obesità, quindi non mi affiderei al discorso palloncino per dire siamo nell'ottica di una soluzione definitiva. Per quel che riguarda il discorso di altri sistemi anche questi sono stati usati e vengono ancora usati, quelli per esempio del vendaggio di cui si parlava prima, però siamo nell'ottica di soluzioni che delle volte possono essere ben tollerate al paziente, delle volte mal tollerate, perché è evidente che un vendaggio riduce quello che è l'assunzione del cibo, o meglio riduce, rende più difficoltoso, rende talora mal sopportabile dal paziente il fatto di essere ridotto all'assunzione di cibi. Quindi preferibilmente, almeno nella nostra esperienza, vengono utilizzati interventi chirurgici che riducono proprio quelli che sono anche l'assorbimento dell'alimentazione. Questo ne parleremo poi molto a fondo dopo. Per sua esperienza quante persone che ci sono sottoposte invece a palloncino e vendaggio poi sono riuscite ad evitare l'intervento? Il palloncino è una metodica endoscopica e non è un intervento vero e proprio. Il vendaggio è già... Noi quell'intervento intendo la riduzione, prima di passare alla riduzione, quante persone hanno evitato la riduzione passando attraverso il vendaggio, prima il palloncino e poi il vendaggio? Io posso essere considerato di parte, tieni presente che nella mia casistica ho operato più di 2000 persone e quindi ho una sostanziale esperienza di chirurgia sequenziale, in quanto io se mi trovo davanti un super, super obeso, faccio prima di tutto la valutazione psicologica. Il percorso che diceva la professoressa Dallaglio è sicuramente il più corretto, perché noi dobbiamo tenere presente una cosa, che gli interventi adesso vengono etichettati in base alla loro possibile efficacia, sulla base della durata dell'intervento e della loro anche difficoltà tecnica, non sempre è così. Il problema è la persona, l'interlocutore che noi abbiamo di fronte. L'interlocutore veramente collaborante, l'interlocutore che vuole uscire fuori da questa trappola e che ha bisogno di un aiuto, con un percorso sequenziale di base, come potrebbe essere un palloncino per sei mesi e un vendaggio, potrebbe uscire fuori anche da una super, super obesità. Io questa mattina ho operato una ragazza che proviene dalla Puglia, che è quasi forse uno dei record della mia casistica, alta 1,49, pesava 231 kg con un BMI di 93, tanto per intendersi un uomo alto 1,73 che pesa 120 kg ha 40 di BMI, per arrivare a 93 un uomo di 1,73 dovrebbe pesare circa 300 rotti kg, quindi tanto da capire la gravità. Questa ragazza qui era però collaborante, non respirava, si addormentava intanto che parlava ma voleva saltarci fuori. Le ho fatto un primo palloncino, mi ha perso i primi 50 kg, un secondo palloncino, mi ha perso altri 20 kg, poi le ho messo un vendaggio, è arrivato a 120 kg, le ho tolto, le ho fatto l'addominoplastica, è arrivata sotto i 100 kg, oggi le ho fatte il lifting di coscia che è peso 89 kg, è una ragazza rinata che è tornata a vivere eccetera. E ho degli altri pazienti che ho operato di bypass, che avevano perso 40-50 kg dopo il bypass gastrico e che sono riusciti a recuperare il peso perché sono tornati con accanimento quasi statanico ad un'alimentazione esclusivamente lipidica e con zuccheri di rapido assorbimento. Quindi la collaborazione del paziente, capire la metodica diventa fondamentale. Rocoloni, quali sono i tipi di intervento, adesso parliamo di riduzione, saltiamo ancora i due passaggi che abbiamo trattato adesso, quello del palloncino e bendaggio, c'è la necessità di fare una riduzione intestinale. Cosa succede? Quali sono i tipi di interventi che si possono fare? Da un punto di vista generale, gli interventi sono di tipo costrittivo o di tipo malassorbitivo. Cosa vuol dire? Vi sono interventi per cercare di far capire alle persone che riducono quello che è la capacità o rendono difficile un'alimentazione e quindi il paziente ha difficoltà, delle volte anche addirittura, ad ingerire del cibo e poi vi sono degli interventi invece nei quali vi è una riduzione di quello che è la parte di intestino assorbente, quindi che riducono l'assorbimento intestinale. Poi vi sono ancora un terzo tipo di interventi che agisce nei due sistemi, nei due modi, riducendo quella che è l'assunzione e riducendo anche quella che è il malassorbimento, aumentando quello che è il malassorbimento e quindi danno assieme i due meccanismi di una riduzione di peso. È fuori dubbio che alcuni interventi tipo malassorbativi sono preferiti ai pazienti perché riescono lo stesso ad introdurre cibo. Altri interventi invece di tipo che riducono quella che è l'introduzione di cibo invece sono delle volte non ben tollerati e il paziente stesso può richiedere di ritornare alla situazione. Fino a che peso è possibile fare una riduzione intestinale? Al giorno d'oggi la tecnica che ha rivoluzionato questi interventi, parliamo di interventi chirurgici possiamo dire in un certo senso maggiori, è la laparoscopia. La laparoscopia ha cambiato completamente la chirurgia bariatrica perché come la laparoscopia è il massimo, anche se all'inizio era una contraddizione per i pazienti obesi, per gli interventi nel paziente obeso, così la laparoscopia ha portato una riduzione di quelle che sono le complicanze di tipo medico internistico nel paziente obeso. Quindi a qualunque tipologia di peso il paziente può essere sottoposto all'intervento laparoscopico. È fuori dubbio che l'intervento laparoscopico se è la cosa ottimale per il paziente obeso però può essere reso difficile proprio per questo aspetto dell'obesità perché un conto è operare un paziente anche obeso e un conto è operare un grande obeso, un paziente di 200 kg è evidente che dà dei problemi tecnici, però il rischio è sicuramente molto minore con la laparoscopia. Una volta ridotto l'intestino in quanti kg si possono perdere più o meno in che tempo senza avere il problema. Esistono due categorie di interventi. L'intervento è un malassorbimento misto, come diceva prima il professor Roncoroni, che sono il bypass e il mini bypass in cui c'è un bypass che può riguardare dai 120 ai 220 cm di digiuno, tanto per fare il conto della serva. Quindi un malassorbimento relativamente ridotto. Lì la componente che funziona di più è la componente iniziale restrittiva perché lo stomaco viene ridotto moltissimo di calibro, quando unisci il fatto che lo stomaco è piccolo, c'è un certo malassorbimento, ottieni un eccellente calloponderale considerato del 40-50% dell'eccesso della massa in grassa entro il primo anno e che può portare anche a un 70-80% su casistiche molto ampie dei pazienti entro i 2-3 anni. Un altro tipo di intervento invece, la diversione biliopancreatica o il duodenal switch, è un intervento che comporta l'esclusione di un lunghissimo tratto di intestino. Tanto per fare proprio sempre un discorso numerico di facile apprendimento, il tratto comune su 8 metri di intestino circa si riduce a 50 cm. Queste persone calano in modo veramente velocissimo e sono felicissimi ma devono rendersi conto che più di chiunque altro si devono sottoporre a costanti controlli specialmente da parte loro, dei diabetologi, degli internisti perché sono pazienti che vanno in ipoproteinemia, calano di vitamina D, E, K, A, hanno cali di ferro, di potassio, di tanti elettroliti. Per cui alla fine cosa succede? Che si buttano nuovamente a mangiare cibi grassi, cibi ipercalorici e sballano anche questo tipo di intervento. Quali sono le paure che ha un grande obeso che viene da lei e chiede di essere operato? No. Il grande obeso è quando viene da lei solitamente molto motivato perché richiede e crede che questa sia per lui l'ultima spiaggia. Per cui tutto sommato vi è una grossa determinazione. Purtroppo è una determinazione nel farsi operare che è una determinazione che il grande obeso non ha avuto però nel curarsi prima. Quindi grosse paure non ce ne sono. È evidente che noi facciamo presente al grande obeso quali sono i rischi. Che per noi i rischi non sono tanto ormai rischi di tipo chirurgico, cioè quelle che sono le tipiche complicanze della chirurgia, ma sono di tipo medico. Perché un obeso che per esempio dovesse sviluppare in un postoperatorio una complicanza medica... Cioè complicanze intraoperatorie non esistono più? No, esistono perché purtroppo le complicanze non intraoperatorie, postoperatorie esistono. Ecco, quali sono i pericoli grossi nei primi 30 giorni e quelle oltre i 30 giorni? Le complicanze nel postoperatorio sono quelle solite della chirurgia. Quindi la fistola, il cedimento di una sutura. Devo dire che queste cose sono andate notevolmente riducendosi nel tempo, anche perché la laparoscopia è diventata una tecnica molto più precisa, soprattutto vi è stato un grosso aumento dell'esperienza dei chirurghi. E queste sono i primi... Poi vi sono delle evenienze strane nel tempo. Per esempio, una delle complicanze che abbiamo visto è quella dei volvoli interni a livello addominale delle anse anastomizzate. Però queste sono cose abbastanza eccezionali. Diciamo che il rischio da un punto di vista chirurgico il paziente lo occorre nei primi 3-4 giorni. E consideriamo che solitamente questi pazienti vengono dimessi in quinta giornata. Mi riferisco a pazienti che hanno rischietto un intervento resettivo a livello gastrico e intestinale. Quindi scali importanti. Un paziente che ha perso già molti chili, che problematiche incontra? Abbiamo visto ad esempio qua ospite in studio, non abbiamo parlato l'anno scorso, l'anno scorso, una paziente proprio operata da lei, professore, che aveva perso 70 chili nel giro di un anno e pochi mesi e aveva portato lei dei problemi reali che erano legati ad alcune circostanze. Tipo la necessità di correre in bagno subito dopo, di avere poco tempo a disposizione per fare certe cose, la pelle in crescita. Ecco, c'è ancora questo problema? E' una domanda come se mi chiedessi quanto costa andare fino a Milano in macchina, se vai in Maserati Biturbo, se vai con la 500, costa diverso. Se fai un tipo di chirurgia restrittivo, dove non c'è nessuna componente malassorbitiva, se il follow up è corretto, il paziente segue una dieta corretta, tenendo presente che la chirurgia restrittiva è una chirurgia di tipo rieducativo in senso alimentare, il paziente non va mai in disvitaminosi, in disprotidemia, eccetera. E gli unici problemi che esistono sono quelli legati alle lipodistrofie, agli eccessi di pelle che vengono comunemente corretti, anche nel mio centro c'è costantemente un'attività di chirurgia plastica post-bariatrica. Il problema grosso non avviene neanche per gli interventi che fa comunemente sia io che il professor Roncoroni, tipo il bypass gastrico, il mini bypass gastrico. Il problema grosso è quando si fa una chirurgia che dovrebbe essere veramente di nicchia, riservata a casi selezionatissimi, stiamo parlando della diversione del duodenal switch, dove la componente malassorbitiva determina sempre e comunque, anche quando il paziente è seguito perfettamente, una disprotidemia e tutta una serie di problematiche che alcune volte sono di difficilissima soluzione, anche per internisti molto esperti. A proposito, una persona che viene da lei e chiede di fare una riduzione, lei se la sente al 100% di dire che alla fine perderà un determinato numero di chili? Ormai nell'esperienza attuale vediamo che tutti questi pazienti hanno un risultato buono e se stanno al percorso e a tutti quelli che sono gli indirizzi del percorso, questi che hanno senz'altro di pedro in modo differente da persona a persona, ma anche il rapporto a quanto poi questi pazienti si alimentano dopo, perché come già è stato accennato vi sono dei pazienti che malgrado quello che si fa poi fanno un'alimentazione quasi in senso opposto a quello che dovrebbero fare per cui recuperano peso. Però siamo nell'ottica di pazienti nei quali la componente psicologica e psichica è molto importante. Quanto tempo intercora fra la richiesta del malato di sottoporsi a intervento chirurgico e l'intervento chirurgico? In questo momento nella nostra situazione è abbastanza lunga, adesso di preciso non li conosco, li conosce forse meglio la professoressa Dallaglio. Da me abbiamo un chirurgo dedicato a questo che è il dottor Marchesi che io sostituisco perché adesso sono i primari che sostituiscono i collaboratori e non viceversa, ma era una necessità legata al fatto che il dottor Marchesi e via. Anche noi abbiamo un certo tempo che deve trascorrere per quello che è il percorso e quello purtroppo esiste perché tanti specialisti non sono specialisti dedicati solo a questo tipo di attività e così anche i chirurghi, ma sono dedicati anche ad altre attività. E poi il tempo non è breve, quindi passo senz'altro dei mesi, anche perché noi siamo un po' contingentati, cioè noi abbiamo la necessità di fare questa chirurgia di tipo funzionale che non è solamente quella dell'obesità ma anche quella per esempio della stipsi, però abbiamo ancora prima la necessità di fare una chirurgia oncologica come abbiamo detto l'altra volta. Quindi quelle che sono le risposte anche dell'azienda verso questo genere di attività evidentemente rendono più lungo il percorso. Quanto costa questo tipo di intervento? E fino a che peso è gratuito e quando invece non è più gratuito? Lo sapete? Bene, la struttura nostra evidentemente rientra nel sistema sanitario nazionale, quindi rientra come tutti gli interventi in un certo tipo di discorso di tipo gratuito. Non dimentichiamo che in alcune nazioni, forse alcune... Da che peso però è gratuito? Ci devono essere gli elementi di BMI diciamo al di sopra dei 40 o se no al di sotto però con delle comorbidità che producono questo. Ma questo è il medico stesso da noi che non esegue l'intervento perché non è indicato e soprattutto va conto delle normative ben precise. Costi? Da me le liste d'attesa sono molto più breve perché diciamo che ormai io dirigo un reparto che è dedicato, facciamo centinaia e centinaia di interventi bariatrici ogni anno, quindi il percorso da me fra psicologo, di tutta terapia e tutta la preparazione dura un massimo di tre mesi. Per quanto riguarda i costi, il sistema sanitario nazionale copre tutte le procedure. L'errore che viene compiuto, ma probabilmente perché chi ha standardizzato i costi non conosce bene le metodiche, diciamo che oggi come oggi vengono rimborsati alle ASL o alle strutture operative intorno ai 4.000 euro per pazienti che provengono da fuori regione e poco più di 5.000 euro per pazienti che provengono da fuori regione. Il paziente quindi non paga nulla? Il paziente non paga niente, lei mi chiedeva i costi. I costi sono legati al fatto che è un conto un po' empirico. Nella realtà noi utilizziamo apparecchiature di primo ordine, materiale multiuso. Per noi in città di Parma. Sì, no, ma anche loro. Sì, sì, certo. Il costo è, noi ci troviamo spessissimo in sede nazionale e internazionale per valutare i costi, siamo proprio, sono costi quasi di rimborso, di rimborso. Professore, l'ospedale quanti interventi fate circa? Un centinaio di interventi all'anno si arriva a fare. Di grandi obesi? Sì, di grandi obesi si arriva a fare. Dottore Savraglia, abbiamo sentito, è stato effettuato l'intervento di riduzione, i pazienti hanno ritrovato una certa stabilità di peso, a quel punto cosa succede? Il percorso è finito o continua? No, no, il percorso, le dico, prima è fondamentale, ho sentito anche i miei colleghi, valutare bene il paziente per avere un buon risultato, perché la motivazione del paziente, la volontà di seguire questi step è veramente importantissima per un buon risultato. Successivamente all'intervento il percorso con lo psichiatra o lo psicologo deve assolutamente continuare, perché il soggetto cambia talmente tanto, la sua immagine corporea cambia così tanto, che è necessario che si adegui a questa nuova immagine di sé. Quindi fondamentali sono di nuovo le visite psicologiche, psichiatriche, le visite internistiche per valutare che la nutrizione sia una buona nutrizione anche dopo l'intervento e che tutti gli esami di laboratorio vadano bene, tutto quanto. e una valutazione del chirurgo invece è più rallentata una volta all'anno, però vengono visti, poi successivamente dopo molti anni possono passare al medico di base. Allora adesso andiamo in pubblicità, poi diamo spazio alle telefonate e agli sms, poi sentiamo anche gli ascoltatori quello che hanno da chiedermi, ci sentiamo subito dopo la pubblicità. Bene, eccoci nuovamente in studio, devo dire che il tempo è corso molto veloce, comunque abbiamo tempo ancora per qualche telefonata e dare spazio anche a qualche domanda degli ascoltatori. Al segno, brevemente, è giusto mangiare solo il primo a mezzogiorno e solo il secondo alla sera? Lì a massima no, perché si ha un apporto diciamo soltanto o di carboidrati o di proteine, non è corretto ma per far capire il concetto e quindi non è un'alimentazione equilibrata. Abbiamo la prima telefonata in linea, buonasera. Buonasera, salve. Buonasera, mi dica. Senta, volevo delle informazioni inerente a un intervento di tipo di riduzione dello stomaco. Sì. Sono da conoscenza, siccome dovrei essere sottoposto come un intervento di questo tipo, di un nuovo tipo di intervento che sostituisce il bypass, che dura circa un'oretta ed è fatto con laser. Sì. Con il laser? Sì, e viene fatto dalla bocca senza buchi e senza nulla. Volevo sapere... E quello lei dovrebbe farlo a Parma? No, no, quello a Parma non so se lo fanno. Ho capito. Allora, sentiamo e le faccio dare la risposta. Laser. Buonasera, grazie. Ciao. Non ho capito di che bene... Dice se ha sentito parlare di un nuovo tipo di intervento che non deve più avere la paroscopia ma attraverso il laser con l'introduzione della gola, suppongo. Il laser di solito è uno strumento, non è un tipo di intervento. Quindi l'intervento deve essere necessariamente qualche cosa adatto. Il laser di solito è un modo con cui si trattano i tessuti. Nella mia esperienza, non so se nella tua se esiste, forse tu hai un'esperienza. Il laser, come diceva il professor Luigi, è un bisturi. Esistono anche dei strumenti taglienti basati sui laser dei quali possiamo tranquillamente fare a meno rispetto all'endoscopia, alla videolaproscopia non ci danno nessun vantaggio. La metodica al quale faceva riferimento l'ascoltatore è una metodica che è stata proposta recentemente, è stata presentata sia a Istanbul recentemente, all'ultimo congresso che abbiamo fatto a Roma sul decision making, c'è l'Apollo che è una ditta americana, internazionale, ha proposto un nuovo modo per eseguire un bypass gastrico effettuando la tasca gastrica per via endoscopica attraverso un ago che con una serie di entra e desci dalla mucosa ti riduce la parte alta dello stomaco a una piccola tasca gastrica. Questa procedura comunque non è un vero bypass perché il bypass prevede, come spiegava il professor Roncoroni, anche il tempo malassorbitivo, quindi quello di prendere un'ansia intestinale di circa un metro e andare a attaccarla con le stomaco. Quindi è un'intervento restrittivo assolutamente sperimentale del quale non c'è ancora un risultato valido sull'uomo. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, mi dica. Salve, io avrei una domanda per il dottor De Lorenzis. Sì. Sono alta 1,60 m e peso 108 kg, quindi vorrei fare l'intervento di bendaggio, solo che mio marito non vuole perché ha sentito che ogni tanto qualcuno muore. Quindi volevo sapere se è vero e quali sono i rischi effettivi che si corrono. Adesso sentiamo anche quanti rischi ci sono di morire con il professor De Lorenzis e quanti sono i rischi di morire con il professor Loccoroni. Credo sia un po' eccessiva comunque la preoccupazione di suo marito. Comunque sentiamo la risposta dei chirurghi. Una alta, 1,60 m e peso 108 kg. 1,60 m. 1,70 m non sarebbe in tabella, non sarebbe sufficientemente... Signore è ancora in linea? Sì. Si è alzata, ha detto 1,70 m o 1,60 m? 1,60 m. 1,60 m, bene. 1,60 m e 1,60 m sono 2,56 m. 106 diviso 256 va a 40 virgola qualcosa, quindi questa paziente è un BMI sufficiente per essere operata gratuitamente dal sistema sanitario nazionale. Per pazienti che vanno dai 40 ai 45, se la paziente è collaborante, se la paziente... Quanti anni ha signora? Prego? Quanti anni ha lei? 35. Grazie, possiamo allora cominciare con l'altra telefonata, grazie di essere intervenuta. Un paziente collaborante che possa rientrare correttamente nel percorso può tranquillamente fare un vendaggio, oggi in tutte le casistiche mondiali la mortalità posto vendaggio è 0,001%, io ne ho operati oltre 1700, non ho mai avuto un caso di mortalità, il marito può stare tranquillo. Sì, io le rifaccio la domanda, ma penso che quello che lei ha già sottolineato prima durante il suo intervento è che... Ogni manovra chirurgica ha una mortalità. Sì, però la parte operatoria crea rischi minimi. Sì, è arrivata al giorno d'oggi, il problema più delle volte sono nel caso di complicanze che allora il sovrappeso gioca, complicanze tipo medico, allora il sovrappeso effettivamente incide. Questo vale però per tutti i tipi di chirurgie, perché se un obeso fosse sottoposto a una resezione del colon, per esempio per malattia di verticolare, ha sicuramente una mortalità, una morbilità molto maggiore del paziente non obeso, quindi rientra un discorso generale. C'è già un'altra telefonata, l'ultima perché poi andiamo in chiusura. Pronto? Pronto? Buonasera, mi dica. Buonasera, volevo parlare con il professor De Lorenzi. Dica pure, l'ascolta. Ok, visto che, professore, prima diceva c'è un percorso da fare abbastanza lungo, la lista di attesa è altrettanto lunga o ci sono dei tempi da... Lei non ci ha seguito tutta sera, eh? Sì che ho seguito. No, 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 allora è andato in cucina un attimo a farsi un caffè. Sono andato, sono andato, esatto, potremmo. Sì, no, lo dico così perché l'abbiamo già trattato ampiamente, quello dei tempi d'attesa, sia da parte ospedaliera che da parte della clinica Città di Parma e abbiamo parlato dei tempi. Comunque se lo vuole dire brevemente, due o tre mesi, diceva prima. Il percorso è identico per le strutture, il problema è che, come diceva il professor Roncoroni, avendo anche tutte le urgenze oncologiche, tutte le urgenze degli altri settori di ricerca, hanno dei tempi di attesa lievamente più lunghi dei miei, i miei sono tre mesi, tre mesi e mezzo, i loro qualche mese in più. Ok, grazie mille. A lei di nuovo, buonasera. Chiudiamo qui questa puntata di Check Up, grazie ai nostri ospiti in studio, grazie a voi che ci avete seguito da casa, vi ricordo che il prossimo appuntamento è fra sette giorni, giovedì prossimo, sempre alle 21.15, si avvicina l'estate e parleremo dunque di un tema di grande attualità, quale è quello delle malattie della pelle. Grazie ancora, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.